Ci siamo, ci siamo e siamo di nuovo qui. Eccoci. Allora buonasera, buonasera a tutte e tutti. Eh invitiamo a diffondere e a collegarsi a diffondere anche questa sera eh l'iniziativa dell'AMPI sessantotto martiri di Grugliaschi in provincia di Torino. Io sono Julio Grandinetti il presidente eh di questa sezione dell'AMPI e questa sera abbiamo il secondo appuntamento con la nostra rassegna verso il venticinque aprile la grande famiglia partigiana. Questa serata è una serata molto molto attesa perché eh questa sera abbiamo chiesto a eh due nostri eh cari iscritti, amici insomma eh giovani delle nuove generazioni dell'AMPI che eh ci aiuteranno a eh a capire un po' meglio e ci racconteranno la la loro esperienza familiare eh delle deportazioni nei campi di sterminio nazisti che è un tema molto delicato, un tema molto particolare anche laddove eh persone come noi insomma sono già abituate a ascoltare, a studiare, a informarsi su eh le tematiche della resistenza, dell'antifascismo. È un tema molto particolare perché eh ha rappresentato quel famoso unicum nella storia umana in cui eh gli esseri umani hanno provato a dividersi in determinate categorie e a sterminare quindi l'eliminazione fisica di massa su scala industriale ehm quelle categorie ritenute e non degne di essere parte della grande famiglia umana. Quindi eh noi l'abbiamo chiamata apposta grande famiglia partigiana perché ci siamo dentro tutte, ci siamo dentro tutti e e quindi diamo diamo voce anche a chi ha vissuto delle storie particolari. Allora ehm io sottolineo questo eh mi sento di fare veramente i grandi ringraziamenti a mh alle persone che sono qui collegate quindi a Leonardo Seren Rosso il nipote del deportato onorato Seren Rosso quindi siamo molto curiosi di sapere queste memorie familiari Leonardo grazie davvero. Eh Francesca Fubini grazie di essere di nuovo con noi Francesca abbiamo già fatto la giornata della memoria insieme e mh siamo devo dire abbastanza affezionati alla storia familiare di Francesca perché la sentiamo davvero davvero nostra e poi ci siamo conosciuti insomma infrangenti di difesa della Costituzione Repubblicana che quindi ci siamo trovati davvero sulle stesse frequenze e poi abbiamo sempre il nostro numero uno Riccardo Mattone Fantini eh del settore comunicazioni dell'Ampi di Grugliasco e poi siamo veramente molto eh molto eh felici di avere con noi anche Giordi Simioli eh che è uno dei giovanissimi eh iscritti alla nostra sezione dei più giovani eh classe del duemila e cinque che anche lui ha delle storie di famiglia e Giordi questa sera ci darà una mano a gestire questa serata mentre sarà uno dei testimoni proprio il venticinque aprile sera in quanto nipote di di partigiano. Ehm allora due comunicazioni operative sul presente che ci sono state richieste e poi eh ci avviamo a questa serata. Allora ehm noi come sezione dell'Ampi abbiamo aderito alla rete eh più di centonovanta quattro voci che si è creata a Torino ed intorni per eh difendere i diritti delle donne eh i diritti civili e le libertà conquistate a chiaro prezzo con tutte le lotte femministe dei decenni precedenti. Quindi la regione Piemonte a guida leghista con i neofascisti di Fratelli d'Italia molto aggressivi ehm molto autoreazionari hanno preso d'attacco fra le prime cose che hanno fatto eh la legge centonovanta quattro quindi un attacco ai consultori alla libertà delle donne al diritto all'autodeterminazione noi abbiamo preso contatto con le reti femministe la casa delle donne di Torino e mh stiamo dando una mano a a questo percorso di difesa dei diritti conquistati. Questo ci teniamo a dirlo perché sabato abbiamo tenuto questo presidio a Torino e eh è stato veramente molto bello molto partecipato quindi in corso attualmente in tutta Italia ma soprattutto a Torino c'è questa frangenza quindi invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a seguire anche questo percorso. Seconda cosa continuate a scriverci tutte e tutti ehm chiedendoci della Val di Susa di cosa succede del perché succede eccetera eccetera. Allora noi abbiamo deciso questo non adesso perché non è assolutamente il contesto del momento ma eh probabilmente nel mese di maggio eh faremo delle iniziative informative proprio su quel tema. Hm? Coinvolgendo i sindaci, gli amministratori locali e le sezioni dell'AMPI della Val di Susa in modo che sia chiara un po' a tutti cosa pensa, cosa vive, cosa sta succedendo davvero in base a come chi vive in Val di Susa, chi opera in Val di Susa con diversi ruoli eh vive sulla propria pelle. Ok? Pensiamo sia doveroso farlo. Quindi un invito per questo questa settimana prima del venticinque aprile per le prossime iniziative ehm mercoledì ventun aprile ci sarà una grande serata sempre sui nostri canali con lo storico Davide Conti con eh la presentazione del suo libro la l'anima nera della Repubblica storia del movimento sociale italiano in cui parleremo quindi del neofascismo e delle radici del neofascismo italiano. Domenica venticinque aprile faremo una giornata molto piena, molto densa di incontri e quest'anno abbiamo optato anche per una presenza eh fisica nel rispetto di tutte le norme sanitarie il venticinque aprile pomeriggio nel parco della resistenza di Grugliasco. Sarà una presenza simbolica quindi non una festa, non ci sarà nessun tipo di iniziativa diciamo di massa ma chi ha piacere di condividere anche se a due metri di distanza l'uno dall'altro anche se con le mascherine un pomeriggio di presenza di memoria e di valori con letture, con delle canzoni, con delle memorie familiare. All'interno della quale porteremo poi un fiore come l'iniziativa del lampi nazionale alle alla memoria dei partigiani caduti e dei portati di Grugliasco e ehm delle vie a cui sono dedicate a queste persone che hanno lottato contro il nazifascismo sul nostro territorio. Quindi avremo dei fiori da portare a queste lapidi, a queste targhe. E poi ovviamente alla sera del venticinque come accennavo i nipoti dei partigiani qui in diretta a Facebook. Sarà una serata anche quella molto molto carica. Per finire con mercoledì ventotto aprile una serata con l'osservatore sulle nuove destre Saverio Ferrari che ci parlerà di queste nuove formazioni neofasciste, di queste nuove camicie brune con la presentazione del suo libro. E eh il 2 maggio eh con l'ultimo appuntamento della grande famiglia partigiana con i familiari dei nostri sessantotto martiri. Tra l'altro lo accenno già adesso avremo per quella sera del del 2 maggio anche il fratello di uno dei nostri dei nostri martiri presenti. Se la salute ci ci assiste. Allora io do la parola a mh il nostro Riccardo Mattone eh come come diciamo sempre iscriviamoci tutte e tutti all'ampi perché ne abbiamo veramente tanto bisogno. Spazio ai giovani che sono bravi, che sono capaci, che a volte non siamo neanche tanto in grado di ehm percepirla questa dimensione di grande impegno, di grande passione, ma c'è e bisogna dare spazio, bisogna valorizzare con dando questi spazi e queste responsabilità. Anche laddove magari ogni tanto non ci sembra che eh sia tutto che funzioni nelle caselle giuste ma abbiamo il dovere di dare questa fiducia ai nostri giovani. Quindi grazie Leonardo, grazie Francesca, grazie Riccardo e grazie di cuore Giordi. Numero uno a lei la plancia. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti e benvenute anche da parte mia. Ehm anche io ringrazio ovviamente Leonardo e Francesca per voler condividere con noi queste loro memorie familiari e anche Giordi per il supporto che ci darà eh questa sera. Prima di cominciare volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Fulvio che poi noi il ventiquattro aprile alle ore quindici insieme alla sezione Ampi di Torre Pellice i giovani dell'Ampi di Grugliasco e dell'Ampi di Torre Pellice andranno non andranno perché sarà tutto in via telematica ma ci sarà un'intervista col partigiano Giulio Giordano che è il presidente eh dell'Ampi di Torre Pellice e che ci racconterà anche lui le sue memorie della resistenza. E detto questo ehm inizierei subito a entrare nel vivo dell'incontro e vorrei chiedere sia a Francesca eh che a Leonardo di presentarci un po' eh i vostri nonni che hanno subito l'esperienza della della deportazione. Partirei da Francesca e poi ehm farei parlare Leonardo. Prego Francesca. Sì grazie innanzitutto per l'opportunità insomma che mi avete dato per portare un'altra ehm testimonianza della della storia della mia famiglia ehm in questo in queste occasioni così così importanti. Allora sostanzialmente nella mia famiglia si è sempre parlato della deportazione del papà di mio nonno cioè mio bisnonno che si chiamava Aldo Fubini. C'erano soltanto pochissime foto sopravvissute di lui alla guerra forse soltanto una in realtà dove la cosa che mi colpiva sempre tanto era la somiglianza di di questo mio bisnonno a mio papà eh che è sua nipote sostanzialmente e che eh quando sentì parlare per la prima volta di questo ehm dell'iniziativa di questo tedesco Gunther Demnig ehm per il monumento diffuso delle pietre d'inciampo allora cominciai a fantasticare sul fatto di mettere una pietra d'inciampo in memoria di mio di mio bisnonno. Eh il problema diciamo che si vi racconto brevemente come come è venuta questa cosa che mi ha avvicinato anche alle ricerche ehm fatte sulla sulla sua storia ehm il problema che si presentava era dove mettere questa pietra d'inciampo eh queste pietre d'inciampo per chi non lo sapesse sono delle dei tipo dei porfidi di ottone che vengono incastonate nella nel marciapiede insomma sulla strada eh là dove è stata l'ultima residenza del deportato ehm o della deportata. Il appunto il problema era dove metterla perché eh sendo mancato anche mio nonno nessuno più sapeva o si ricordava di dove era stata la residenza della della mia famiglia, dei miei antenati. Eh quindi mh ho tentato con scarsi successo di eh rivolgermi alla prima alla comunità ebraica che non ha saputo darmi nessuna informazione insomma definita eh poi alla al museo diffuso della resistenza per quanto gentili si si sono insomma mi hanno dato una mano eccetera però non siamo arrivati mai a nulla perché mi hanno dato il link di un archivio che io non essendo archivista non ho saputo onestamente utilizzare e e quindi insomma alla fine sono riuscita a ottenere questa informazione tramite una conoscenza nel questo settembre mh che mi ha messo in contatto con lo stato civile di Torino, dell'archivio storico di Torino e che ehm attraverso una la dottoressa coordinatrice e la sua collaboratrice eh sono riusciti praticamente a fare un vero e proprio certificato di residenza storico di della famiglia di mio trisnonno. Quindi eh praticamente attraverso questo questo studio sono riuscita anche ad ottenere altre informazioni utili eh insomma che mi hanno permesso poi di allargare la eh così la 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 diciamo la ricerca e la la posa poi delle pietre d'inciampo che verrà fatta nel 2022 anche al fratellastro di mio nonno Mario Augusto Fubini e a la sua mamma eh che era la matrina di mio nonno eh Enrichetta Rimini. Ehm dunque da questo meraviglioso documento sostanzialmente sappiamo che mio bisnonno nasce il 15 febbraio del 1898. Sappiamo che era commerciante veniva da una famiglia benestante tanto che addirittura le professioni del del suo di suo papà Abramo era proprio eh scritto benestante nel nel certificato di residenza. Quindi lui invece insieme al fratello aveva avviato un'attività di commercio e eh quindi era diciamo un libero professionista. Era stato arruolato poi nella guardia di finanza ma ovviamente era stato poi riformato con le leggi razziali del 38 e c'è proprio scritto nel censimento che era stato riformato per eh razza ebraica in ed in posto in congedo assoluto per per questo motivo. Ehm si sposa con mia bisnonna nel ventitré e da questo matrimonio nascono appunto mio nonno Franco e eh sua sorella Elda. Eh nei fatti questo matrimonio in realtà non non fu felice si separarono dopo pochissimo anche se non potevano separarsi legalmente ma ehm quindi le storie poi prendono anche delle vie leggermente diverse e io perdo delle informazioni nel mentre diciamo. Comunque durante la guerra eh nel quaranta eh con i bombardamenti su Torino Ida cioè mia bisnonna e i ragazzi si spostano ehm a Sant'Albano vicino a Cuneo e poi si eh vanno in Toscana a Pistoia. Eh mentre invece Aldo rimane a Torino a lavorare. Eh lui era ehm un libero professionista appunto era un commerciante, un rappresentante quindi sostanzialmente non ha non aveva smesso di lavorare con le leggi razziali eh e oltretutto ricordava mio nonno che suo papà non aveva avuto una vera percezione del pericolo perché non potendo continuare a lavorare sostanzialmente non si era reso conto bene della situazione che che si stava creando intorno a lui c'era una situazione oggettivamente se ci pensiamo incredibile. Ehm lui sembrava appunto eh folle che potesse essere arrestato eh senza aver commesso nessun reato e quindi in questa cosa diciamo non non ci credeva più di tanto. Eh lui quindi rimane a Torino a a lavorare eh dopo qualche mese però nel nonostante oltretutto nella comunità ebraica eh di Torino intorno agli anni quaranta cominciassero ad arrivare dalla Germania dei rifugiati ehm ebrei che eh si eh praticamente cominciavano a raccontare che cosa succedeva in Germania eh coloro che erano di razza ebraica e quindi eh insomma mh però tutto questo è molto difficile sicuramente a comprendere in una realtà quotidiana di normalità e e quindi non non viene in realtà compresa bene da da mio nonno. Allora si spostano per poi bombardamenti e vanno tutti si spostano nel cuneese vicino a eh chiusapesio eh dopo l'otto settembre il quarantatré ovviamente la situazione diventa molto più difficile ehm il diciannove settembre il quarantatré avviene un il primo eccidio a Boves che è stato il prima il primo eccidio nazifascista eh in Italia e eh insomma nel cuneese si sparge il terrore quindi loro decidono di trasferirsi eh in un comune eh sull'Appennino romagnolo dove avevano dei parenti a Santa Sofia passano alcuni mesi lì eh fino al dicembre il quarantatré quando eh il maresciallo dei carabinieri di questo paese che in realtà si era dimostrato ecco che sapesse che in questo paese si nascondevano degli ebrei gli avvisa che il giorno dopo avrebbe dovuto arrestarli quindi loro non sapendo come come fare eh scappano dal fratello della signora che li ospitava della famiglia Petrini quella che li ospitava e scappano in un borgo in alta montagna. Ida eh mio nonno e sua sorella vanno in un paese mio eh bisnonno Aldo Fugini si sposta in un altro borgo quindi non si rifugiano diciamo insieme ehm nel frattempo mio nonno eh Franco inizia a combattere come partigiano perché lui aveva circa vent'anni diciamo in quell'epoca comincia a combattere come partigiano sull'appennino tosco emiliano e ehm nel una sera del febbraio del 44 quindi quando era già diciamo mese e mezzo più o meno un paio di mesi che erano rifugiati in alta montagna eh decide di eh fare una visita a suo papà in quest'altro borgo che era non era vicinissimo era o qualche valle di distanza o una o due valle di distanza diciamo da dove si trovavano quindi eh va verso verso questo borgo lo incontra passano la notte insieme e ehm durante questa notte il padre gli dice che da lì a poco sarebbe dovuto tornare a Torino per liquidare delle proprietà perché stavano finendo i soldi comunque loro erano sì rifugiati però ovviamente come tanti insomma pagavano le persone che li ospitavano ovviamente gli altri rischiavano la vita quindi era il minimo e diciamo i soldi però erano finiti sostanzialmente quindi lui eh dice a suo figlio devo tornare a Torino perché eh dobbiamo dobbiamo trovare altri soldi ehm loro non si viderò mai più dopo questa serata perché mio bisnonno torna a Torino eh un qualche mese dopo nel quindici agosto del quaranta quattro venne arrestato eh probabilmente mh su delazione per colpa di dei delatori e ehm portato in prigione prima Torino e detenuto prima Torino poi a Bolzano nel campo di smestamento e infine probabilmente è stato ucciso all'arrivo da Auschwitz nel ventiquattro ottobre del quaranta quattro eh probabilmente non passando la la prima selezione pare di aver mi pare di aver capito così diciamo ehm sugli altri componenti invece della famiglia ho informazioni un po' più scarne perché appunto di lui sapevo anche qualcosina da da mio nonno se posso vorrei far vedere le fotografie che di cui ho trovato traccia appunto nel nel sito del CEDEC cioè del centro di documentazione blaica contemporanea fotografie che io non avevo mai visto e che eh appunto all'interno di questa ricerca sono cita da reperire questa signora che spero vediate è la eh Enrichetta eh Rimini ehm appunto la 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 seconda moglie di mio trisnonno quindi la matrigna di mio eh di mio nonno e ehm questo ragazzo invece è il fratellastro di mio nonno il fratello di mio nonno Mario Augusto Fubini nato dal secondo matrimonio appunto con nel mila novecento quindici ritorno al video ecco non so se sono sono nel video giusto ehm ottimo e loro praticamente ehm rimangono a Torino fino al al 43 da quello che so io ehm vengono eh fino appunto nel nel 43 eh cercano di scappare verso la Svizzera quindi loro vengono arrestati il quindici dicembre del mila novecento quaranta tre da degli italiani in Svizzera secondo il libro della memoria da cui ho tratto la maggior parte delle delle informazioni che ho avuto vengono detenuti prima a Varese e poi a Milano e da lì vengono ehm deportati ad Auschwitz. Dalle risultanze sia del libro della memoria sia del certificato di stato di famiglia che mi era stato fatto dallo stato civile di Torino Enrichetta pare essere morta durante il viaggio infatti nel libro della memoria il giorno è ignoto si sa soltanto il numero di convoglio che era lo stesso del figlio c'è il convoglio numero 6 mentre invece Mario Augusto ha una fine forse addirittura più tragica perché lui sopravvive fino al 18 gennaio 1945 quindi quando praticamente la guerra era quasi finita c'era stata quasi la liberazione di Auschwitz ma muore quasi sicuramente distente di fatica durante le marce forzate che da Auschwitz portavano all'evacazione del campo appunto è ancora forse più tragico perché lui muore poco prima della liberazione aveva appena compiuto 30 anni praticamente questo è tutto quello che sono riuscita a reperire sulla storia dei miei nonni dei miei parenti insomma anche se un po' lontani per adesso lascio la parola a Leonardo di aver parlato fin troppo grazie grazie Francesca intanto voglio ringraziare Lampi anche Fulvio e Riccardo per questa preziosa opportunità che mi date questa sera sono anche abbastanza emozionato perché comunque parliamo di una cosa veramente importante e sono onorato di poter di poter parlare questa sera a proposito di onorato onorato il nome di era il nome di mio nonno di cui io sono nipote e volevo iniziare con quattro mi sono segnato quattro date importanti attraverso le quali parlo di appunto di mio nonno che è stato deportato nel campo di lavoro e punizione di Cala una data è il 13 maggio 2001 nel 2001 il 13 maggio compio 18 anni e mia nonna e mio nonno mi regalano un plico di una decina di fogli che è qua con me e qua c'è la dedica che dice a Leo anni 18 in questa agenda sono riassunti ricordi episodi vissuti da dal nonno devo dire all'età di 18 19 anni tra amici cose per la testa diverse da da un impegno storico e sociale devo dire che non l'avevo questo regalo l'avevo apprezzato ma non quanto poi ho iniziato ad apprezzarlo negli anni successivi questa sera è qua con me questo piccolo diario clicco di fogli e in questi fogli sono riportate queste testimonianze molto molto forti mio nonno l'altra data è al 4 aprile 1925 che è la data di nascita di mio nonno nonno paterno nasce nel 25 e il primo giugno 1944 invece viene preso dai tedeschi e viene portato appunto a Cala questo come avviene allora mio nonno non non era ebreo non non era soldato semplicemente i tedeschi avevano avuto il permesso di poter rastrellare su alcuni paesi braccia braccia per lavorare praticamente e quindi in un paese che è Pont Canavese infatti il mio cognome è Seren Rosso che ho arreditato dal mio papà e dal nonno è proprio tipico di questo del Canavese Pont Canavese è questo paese appunto qua in Piemonte in cui viveva mio nonno che era figlio di panettiere e mia nonna invece sua mamma invece non lavorava erano viveva una tranquilla diciamo abbastanza tranquilla vita di paese a Pont quindi si sapeva che c'era la guerra vedevano in questa posizione geografica bombardamenti da una parte c'era Torino dall'altra parte c'era Milano però non avevo mai immaginato che la guerra sarebbe arrivata proprio da loro e invece il primo giugno del 44 quello che succede è che mio nonno insieme ad altri ragazzi giovani giovanissimi avevano 19 anni vengono presi vengono messi su un carro bestiame ferroviario e vengono mandati in Germania molto molto vago nel senso che oggi noi sappiamo benissimo dove si trova una città dove si trova un posto ho recentemente visto la distanza per esempio che c'è tra Ponte Canavese e Cala che è di 990 chilometri voi potete immaginare un ragazzo di 19 anni messo su un carro bestiale su un treno e mandato in un posto sconosciuto posto in cui appunto questi ragazzi avrebbero dovuto lavorare vorrevo dare una piccola nota su Cala che è un piccolo paese nella regione di Turingen in Germania e proprio al centro della Germania non tantissimo non molto distante da Iena è la città un po' più vicina poi c'è anche Berlino che è un po' più un po' più a nord rispetto a Cala praticamente in questo posto si hanno convogliati i ragazzi di nove paesi diversi c'erano ragazzi del Belgio Olanda Francia Italia Polonia Russia ex Jugoslavia ex Cecoslovacchia anche Germania ed erano impiegati per lavorare per costruire degli aerei era un progetto segreto tant'è che appunto lavoravano in alcune in gallerie sotterrane per costruire degli aerei è importante anche il fatto che siamo nel 44 quindi da parte dei nazisti c'è la sensazione molto molto forte che la guerra stia per terminare e loro stiano anche per essere la parte che sta perdendo e quindi gli ordini che arrivano sono quelli di produrre ancora di più rispetto a quello che producevano già ed è impressionante come comunque i tedeschi e i nazisti avevano una un sistema molto preciso del male diciamo perché ovviamente questi aerei erano costruite per bombardare per distruggere quindi mio nonno viene portato in questo campo di lavoro punizione ho diversi aneddoti poi Riccardo non so quando poi posso raccontarli che mio nonno ha poi raccontato a mio padre a mia mia zia ovviamente anche a mia nonna beh un attimo per darvi un'idea oggi ho letto ancora diverse testimonianze su questo posto che è appunto Kala vicino a Kala c'era un altro campo che è il campo di Buchenwald che rispetto al campo di Kala era classificato come campo di sterminio la cosa un po' strana che a volte uno pensa che un campo fosse più più drammatico rispetto a un altro in realtà il confine era sempre molto sottile tra i campi di lavoro e i campi di sterminio e per esempio una cosa che ho letto è che c'era stata l'opportunità per 200 ragazzi francesi di spostarsi da Buchenwald a Kala e loro ovviamente hanno anche loro prigionieri e quindi loro hanno preferito hanno detto boh va bene andiamo a Kala a vedere a lavorare nel campo di lavoro pensando di scappare da un campo ben peggiore in realtà una volta che sono arrivati lì hanno visto che la situazione era praticamente uguale tant'è che hanno chiesto di tornare a Buchenwald e ovviamente sono rimasti a Kala e li hanno torturati li hanno fatti passare una notte intera in piedi e tanti di loro sono anche sono morti di stenti quello che volevo anche raccontare è che questo campo era stato voluto da Göring e da un altro generale che si chiamava Saukel e immaginate questa persona Saukel diceva questo apro attimo un file che ho qui pensate che Saukel aveva detto questi uomini vanno trattati nutriti in modo che diano le massime prestazioni con il minimo dispendio quindi veniva presentato come un campo di lavoro non certo dove le persone sarebbero andate a morire in realtà c'è un numero impressionante di vittime tra l'altro un numero altissimo di italiani in questo campo e immaginate che quando poi Saukel venne dichiarato colpevole durante Norimberga lui riuscì a dire che lui moriva da innocente dicendo che la sua condanna è stata ingiusta questo per anche per testimoniare come queste persone riuscirono anche a dire certe parole nel momento in cui era lampante la malvagità che loro avevano avevano fatto su questo io poi ho ricevuto questi racconti ho potuto approfondirli anche parlando con mio padre con mia zia che hanno poi anche ovviamente subito anche loro un po' di a catena quello che poteva essere poi una persona che grazie a Dio è sopravvissuta alla guerra mio nonno poi nel novembre del 45 viene poi liberato anche questo avviene in modo ora cambolesco e ovviamente poi tornato anche in Italia in Italia tra l'altro lo davano per morto i suoi genitori li aveva salutati al giugno del 44 li rivede poi nel 45 dopo che loro pensavano che fosse rimasta vittima della guerra del campo Riccardo fermami fermami tu perché non so se a livello di tempistiche come ne vai pure avanti non abbiamo delle tempistiche strette quindi se vuoi continuare a parlare non c'è problema va bene ho degli aneddoti allora alcuni aneddoti mi hanno sempre colpito perché trovo che poi come la vita si sia sviluppata e il motivo per cui io sono anche anche qui è perché appunto sono avvenute queste cose in questa maniera incredibile che raccontano però l'atrocità dei cambi il fatto per esempio che un giorno erano erano in un bosco e c'erano dei rami secchi e mio nonno ha fatto per saltare per prendere questi rami loro vogliono accendersi un fuoco ovviamente hanno vissuto l'inverno del del 44 faceva freddissimo loro avevano nei piedi mio padre mio nonno riporta delle scarpe fatte di carta in realtà definire le scarpe la scarpe ti dà l'idea di comodità di caldo di stabilità avevano dei pezzi di carta praticamente legati ai piedi comunque mio nonno fa questo salto e lui ha raccontato a mia nonna che ha scritto poi questi documenti non raggiunge questi rametti per la sua altezza tra l'altro io sono abbastanza alto mio padre è anche abbastanza alto mio nonno ovviamente era alto quindi praticamente ha saltato uno più alto di lui per prendere questi rami e in quel momento gli hanno fucilato questo suo questo suo amico questo è un aneddoto l'altro è per esempio il fatto che un giorno mio nonno aveva malissimo i denti e dei soldati nazisti l'hanno preso in quattro e gli avevano strappato i denti di bocca mio nonno sviene dal dolore e lo buttano in mezzo ad altri cadaveri a dei cadaveri praticamente mio nonno era svenuto poi rinviene e si trova in mezzo a persone che sono prive di vita mio nonno riporta nei racconti che mia nonna aveva riscritto il fatto che a un certo punto non riuscivano a riconoscersi l'un l'altro ci sono arrivati insieme in questo posto che era a Cala e dopo poco avevano perso l'energia avevano perso loro stanzavano alle quattro di mattina ovviamente non c'era colazione non c'era il pasto c'era la sera dopo che avevano lavorato tutto il giorno non si riconoscevano tra di loro e sono arrivati al punto che anche mio nonno cercava sperava in qualche modo di 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 morire e lo faceva riportava nei suoi racconti cercando di provocarsi una polmonite probabilmente non c'era modo per per morire diversamente lui ha riportato questo e devo dire che in queste settimane che ho che ho acconto un po' i pezzi da raccontare questa sera è una cosa che mi ha fatto ancora più pensare questo è stato anche un modo per parlare con mio papà con mia con mia zia e questo mi fa proprio pensare quanto sia importante una serata come questa perché la memoria è una cosa viva veramente perché la guerra si è stata negli anni 40 del secolo scorso sembra davvero tantissimo tempo fa e in qualche modo è tanto tempo fa però come possiamo ancora essere toccati da tutto questo anche come Francesca poco fa raccontava queste storie ci ci toccano è passata la generazione di nostri genitori c'è la nostra e quella che verrà deve deve sicuramente essere toccata da da questo ho seguito anche l'incontro che Riccardo avete fatto l'altra settimana è stato molto molto interessante quindi invito anche le persone a vedere i prossimi perché è vero la storia come dice una canzone la storia siamo noi siamo noi i padri i figli anche i nipoti questa questa sera la storia ci deve sempre insegnare insegnare qualcosa a me insegna qualcosa a leggere i racconti e capire anche quando questo mi ha toccato come dicevo prima a 18 anni hai altre cose per la testa forse crescendo capisci la sua storia la sua importanza nei suoi aspetti anche più atroci i lager lo sono state come anche purtroppo non solo i lager ma tanti posti in cui c'è stata la guerra dove c'è la guerra ancora oggi c'è il male forse forse Francesca voleva aggiungere qualcosa e posso passare la palla di nuovo si Francesca se vuoi dire qualcosa hai la parola ma io volevo ringraziare Leonardo tantissimo per questa sua testimonianza che mi ha davvero commossa lo ringrazio anche per avermi contattata perché lui praticamente ha visto il video che ho pubblicato su facebook di mia nonna perché io avendo metà della famiglia ebrea ho purtroppo varie storie e quindi anche i miei nonni sono stati appunto uno l'abbiamo sentito era il figlio di quello che è stato deportato anche l'altra mia nonna ha avuto una storia così che magari dopo accenno qualcosina e appunto mi ha fatto molto piacere che Leonardo mi abbia contattato per dirmi guarda ho visto questo video e io subito l'ho catturato per farlo venire a parlare insomma perché è importante noi siamo gli ultimi gli ultimi che abbiamo sentito di cui abbiamo sentito a voce questi racconti da figlia vissuti i nostri figli non avranno più questa possibilità e quindi secondo me è fondamentale proprio davvero davvero tanto importante poter fare queste serate e vi ringrazio di nuovo ancora per darci l'occasione perché loro e le nostre le loro testimonianze la loro vita passano attraverso di noi e questo secondo me è davvero davvero importante appunto ok volevo dire due cose su mia nonna su loro allora dunque i miei nonni dicevo sono scampati alla guerra la fine della storia di mio nonno che non ho raccontato quando poi il battaglione si era disgregato sull'appennino toschemigliano la linea gotica nel frattempo era salita ed era liberato quella zona in cui si trovavano nel 44 quindi loro decidono a questo punto lui sua sorella e sua mamma non avendo più notizie del padre che nel frattempo loro non sapevano ma era stato già arrestato scendono verso Roma scendono verso Roma che era stata liberata nel frattempo vengono accolti dalla comunità ebraica di Roma che era diventata in quel momento un centro di raccolta anche per i rifugiati che arrivavano un po' da tutta Italia e soprattutto dal nord e con l'idea di andare a Tripoli dove il padre di mia nobisonna era rabbino a Tripoli non ci arriveranno mai perché le situazioni diciamo le comunicazioni diciamo dei trasporti erano ovviamente interrotte e peraltro dopo un anno circa dopo un anno un anno e mezzo scoprono che in realtà mio trisonno era morto in Libia e quindi non aveva più nessun senso andare a Tripoli rimangono a Roma passeranno soltanto nel 1948 quindi dopo tre anni quasi quattro la morte di mio nonno scoprono mio Franco diciamo mio nonno torna a Torino e scopre che suo papà era stato ucciso ad Auschwitz essere stato ucciso quindi liquida tutto quello che rimaneva Torino e torna a Roma mia nonna invece ha questa storia particolare sulla quale ci tengo a dirle è stato anche scritto un libro un libro per ragazzi che si chiama La Casa Segreta La Casa Segreta di l'autrice Ermigna Dell'Oro e questo libro presente racconta dell'esperienza di mia nonna che in breve è questa lei praticamente era figlia di un piccolo imprenditore della provincia di Milano loro avevano un'azienda magenta di minutaglie metalliche tipo pinze clips queste cose qua loro appunto vivono così da imprenditori tra magenta e Milano e praticamente durante anche lì non si rendono conto del pericolo stessa praticamente le due storie sono parallele anche in quel caso il padre di mia nonna decide di non scappare aveva avuto la possibilità di andare in Svizzera ma decide di rimanere a Milano perché lui dice io pago le tasse sono una persona onesta lui era già emigrato dalla Grecia per altre persecuzioni che erano state effettuate in Grecia la fine del 1800 e dice ma perché devo andare via sto pagando le tasse sono una persona onesta rimango qua dove c'è il mio lavoro dove c'è la mia vita e quindi rimane a Milano loro praticamente si rifugiano poi per un quando la situazione precipita nel 43 si rifugiano per un breve periodo nelle campagne poi le persone che li ospitavano a febbraio del 44 si rendono conto perché la situazione è stata troppo pericolosa quindi li mandano via e loro tornano a Magenta dove aveva la sede dell'azienda a quel punto i custodi dell'azienda che erano cattolici ai quali era stata concessa diciamo la gestione dell'azienda stessa la famiglia Cerrioli decide di aiutarli e costruisce hanno avuto l'idea geniale cioè costruire nel magazzino dell'azienda una stanza segreta appunto cioè creare un doppio fondo sul palco del magazzino creare una stanza con tutto il necessario che fosse utile a vivere questa stanza aveva una finestra e nascondere questa stanza da una parete di cassa inchiodata e soltanto una si muoveva avanti e indietro quindi loro entravano uscivano da questa stanza e ovviamente insomma questa lì passeranno un anno e mezzo dal febbraio 44 fino al maggio del 45 diciamo un anno e due tre mesi purtroppo come diceva anche Leonardo questa esperienza entrambe le esperienze hanno segnato moltissimi miei nonni io infatti non ho episodi di mio bisnonno perché mio nonno non ha mai voluto parlarne in realtà c'era stata questa storia che sapeva che era io sapevo che era stato deportato ed era stato ucciso da Auschwitz però non ho mai avuto altri altri aneddoti da lui non ho mai saputo nulla così come mia nonna ha anche sempre detto lei aveva 15 anni quando è iniziata la guerra insomma quando è stata chiusa in questo era del 39 quindi anzi del 29 scusatemi e quindi aveva 15 anni 14-15 anni quando è stata chiusa in questa stanza e ne è uscita che ne aveva 16 quasi 17 e quindi lei ha sempre detto che la parte più bella della sua vita era andata perduta in questa situazione e sicuramente questo ha avuto delle ripercussioni anche sul loro carattere sulle loro vite io ne approfitto per dire che gli altri miei nonni la parte materna cattolici che avevano combattuto come partigiani mio nonno era stato partigiano nel Monferrato e sono usciti dalla guerra vincitori mentre invece gli altri miei nonni quelli perseguitati sono usciti dalla guerra vittime comunque spezzati da questa esperienza e quindi il paragone è molto insomma è abbastanza interessante anche da un punto di vista scusate sociologico comunque è così volevo aggiungere sostanzialmente questo grazie mi faccio sì poi aggiungo una piccolissima cosa che mi ha fatto notare mia sorella parlando del fatto che avevi fatto questa serata il fatto che comunque tornati dalla guerra non c'era poi nessun supporto psicologico per chi è uscito dai lager adesso noi abbiamo in mente nella guerra del Vietnam la solita cosa che si dice quando i superstiti del Vietnam che tornano nemmeno loro hanno avuto penso un supporto psicologico tantomeno i nostri i nostri nonni quindi era un tornare un po' dentro l'incubo e il supporto l'hanno poi avuto da posso essere stimoniale da mio papà e mia mia zia che comunque avevano a che fare con con il loro genitore non è nemmeno facile questa 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 parte grazie mille Francesca e Leonardo quando immaginavamo una serata come questa volevamo proprio parlare di queste cose sicuramente l'esperienza per chi ha vissuto l'esperienza di lager è molto più difficile che invece per chi ha vissuto l'esperienza della resistenza parlarne e sicuramente molte persone anzi non l'hanno non l'hanno mai fatto l'hanno o sono riuscita a farlo dopo molto tempo perché sicuramente il trauma è naturalmente enorme io volevo volevo farvi un'altra domanda prima di passare poi la parola a Giordi noi abbiamo visto lo scorso anno scusate la scorsa settimana col col nostro incontro con i figli dei partigiani come c'era una forte trasmissione a livello familiare delle memorie e quanto ho capito anche nella vostra famiglia è stato così però dai vostri racconti si capisce anche che voi avete fatto delle ulteriori ricerche per poter arrivare a delle informazioni così precise come quelle che ci avete dato e quindi insomma volevo chiederti volevo chiedervi un po' quali sono stati queste ricerche e in che momento della vostra vita vi è venuto il desiderio e avete sentito la necessità di andare a scoprire più dettagliatamente cosa era successo ai vostri nonni quindi anche qui partirei con Francesca e poi passerei la parola a Leonardo dunque io devo dire appunto queste storie soprattutto la storia di mia nonna che vi ho raccontato della stanza segreta mia nonna me la raccontava come una favola nel senso me l'ha sempre raccontata fino a quando ero ero bambina quindi di questa storia e tra l'altro io sono stata molto fortunata per quanto riguarda le storie dei miei nonni perché loro quando praticamente Steven Spielberg ha girato Scenderlist è rimasto molto colpito dalla storia che l'ha raccontato col film e quindi ha deciso di creare una fondazione la Shoah Foundation che ha raccolto circa 55.000 testimonianze video audio video di tutte queste persone che hanno vissuto diciamo quello che per gli ebrei della Shoah da vari punti di vista da tutti i punti di vista che ha potuto a questo progetto hanno partecipato anche i miei nonni e quindi sono stata molto fortunata perché ho le testimonianze video dei miei nonni che raccontano l'intera esperienza fatta appunto tramite una proprio un'intervistatrice cioè una persona che per lavoro fa quello quindi ha saputo anche dare una completezza al racconto invece per quanto riguarda appunto mio bisnonno lì non ho potuto contare su questa testimonianza neanche in realtà la testimonianza di mio nonno ne parla più di tanto e quindi come dicevo prima ma lo ripeto molto molto brevemente ho fatto le ricerche che non sono state così semplici e alla fine un po' parlandone con le persone sempre parlando che si arriva a secondo me a trovare soluzioni sono riuscita a conoscere una ragazza che faceva l'archivista di professione e che mi ha saputo indirizzare dove cercare le informazioni che mi mancavano quando ho avuto l'idea di porre le pietre d'inciampo che ci tengo a ricordare che saranno poste nel 2022 probabilmente se me le accettano ma non vedo perché non me le debbano accettare quindi sì e quando mi è venuta in mente questa cosa io in realtà come dicevo è sempre stata molto presente nella mia vita io sono stata anche in realtà battezzata ebrea poi non ho non sono mai non sono praticante non ho non ho fatto neanche il bar mitzvah eccetera quindi però ho diciamo assorbito il mio essere il mio essere ebrea cercando di con un senso di appartenenza forse più rispetto alla memoria quindi ho sempre letto molto anche quando ero ragazzina rispetto ai campi rispetto all'olocausto eccetera e fino a poi poter realizzare che io potevo stessa potevo fare diciamo creare memoria rispetto alle storie dei miei nonni e quindi è stata in realtà una progressione per quanto mi riguarda non c'è stato un momento in cui preciso ma è stata tutta tutta la mia vita così diciamo in qualche modo orientata verso questo destino grazie allora io posso dire che nella mia vita uno dei momenti più toccanti è stato quando io sempre nel 2001 nel settembre del 2001 sono andato in Germania e con la scuola con i miei compagni di liceo e sono portati in gita a vedere diverse cose tra queste cose c'era anche la visita al campo di concentramento di Dachau che non è il campo dove c'è mio nonno però è un campo di concentramento dove sono morti tantissimi prigionieri quello mi ha toccato molto e io spero che nelle classi nel sistema scolastico possa essere promosso il fatto di portare i ragazzi a vedere i luoghi della guerra soprattutto quando senti magari dei ragazzi dire certe cose che ideologicamente hanno portato poi alle guerre quindi il fatto di aver visto quel posto per me è stato molto molto impressionante lo ricordo ancora oggi come se fosse successo l'altra settimana poi diciamo che appunto mia nonna amava molto mio nonno e quindi mi raccontava quello che mio nonno aveva difficoltà a raccontare mi ricordo anche mio nonno l'ho conosciuto è mancato poi nel 2009 ricordo però che aveva quel silenzio che ha portato la guerra sentivo anche l'altra settimana è stato nominato il fatto che alcune persone sono poi i master c'è stato questo silenzio profondo e pesante che ha lasciato la guerra e quindi mi ricordo mio nonno mi raccontava qualche cosa il fatto che per esempio lui conoscesse cinque parole in tedesco e quelle cinque parole lui tante volte l'hanno salvato quelle cinque parole mio nonno è fuggito per esempio diverse volte dalle varie colonne che facevano di prigionieri per spostarli da un punto all'altro e ha fuggito e ha stato poi ripreso e ha ricatturato e portato di nuovo nel campo di lavoro mi sono avvicinato anche al fatto di voler scrivere queste cose a parte che a me piace molto scrivere solitamente però non scrivo di cose della guerra però ho iniziato ho provato a scrivere delle cose mettendole su carta rileggendole e sentivo più vive diciamo nella ricerca che ho fatto ho visto alcuni siti uno che mi ha colpito particolarmente e vi consiglio di guardare che si chiama le pietre raccontano è il nome del sito ed è stato molto toccante vedere quanto gli appunti presi da mia nonna sui racconti di mio nonno corrispondessero poi a delle cose che leggevo su dei siti per esempio che trattavano per esempio di quello che accadeva a Cala per esempio il fatto che verso il termine della guerra volessero inchiudere tutti i prigionieri che avevano lavorato per la costruzione degli aerei militari e fargli esplodere insieme a questa insieme di galle hanno diverse gallerie diversi tunnel in cui lavoravano in sotterraneo e questo è stato dato quindi quest'ordine di far saltare la cala poi quello che ho trovato sul sito ma anche sugli appunti era il fatto che quest'ordine poi cambiò nel senso che il maggiore della Luftwaffe si chiamava Polzer doveva eseguire quest'ordine poi lui ha pensato la guerra sta per finire se io faccio quest'ordine verrò ucciso per questa decisione e quindi decide di invece di chiudere i prigionieri nella cava li rimette in colonna e li vuole trasportare da un punto all'altro idea non migliore rispetto all'altro perché ovviamente questo avveniva sotto i bombardamenti e le mitragliate degli aerei americani mio nonno infatti scappa da questa colonna e un altro suo aneddoto che ci ha raccontato era che poi lui ha passato la notte prima sotto un ponte viene recuperato da delle persone poi scappa con degli amici nel bosco dormono il giorno dopo si svegliano accerchiati da militari perché loro pensano siano tedeschi ma invece erano poi dei soldati americani che li hanno poi tratti in salve e portati insieme a loro penso di aver risposto alla domanda come nella mia famiglia appunto c'è stato poi il nonno aveva poi una grande riservatezza aveva molta difficoltà a raccontare questi episodi tant'è che tanti episodi non sono molto chiari alcuni aneddoti invece come quelli che ho raccontato questa sera sono passati da generazione in generazione grazie mille è anche interessante non solo sentire i racconti ma anche vedere come questi racconti poi sono stati appresi da voi e vedere soprattutto le vostre emozioni perché raccontare le memorie familiari è anche questo anzi forse soprattutto questo soprattutto emozioni e questo è davvero davvero bello io adesso posso la parola a Giordi che è un nostro giovanissimo iscritto classe 2005 oggi farà le parti di chi cerca di un po' di dirigere l'incontro anche se non c'è molto da dirigere in questi casi però poi domenica prossima sarà protagonista con la sua storia familiare e quindi Giordi prego grazie Riccardo volevo ringraziare anche Francesca e Leonardo per queste storie veramente incredibili e molto sentite si vede l'emozione che provate quando le raccontate e riesco a sentirle molto vicine a me perché anche la mia famiglia ha vissuto storie simili a quelle delle vostre e quindi riesco a sentire proprio l'emozione che provate quando le raccontate la mia domanda era vista la memoria che tramandate delle vostre famiglie se a oggi riuscite comunque in qualche modo oltre a tramandare queste storie impegnarvi anche socialmente sotto questi aspetti storici e di memoria Allora io diciamo un po' come vivo l'antifascismo oggi se non ho capito male dunque appunto l'idea di poter trasmettere la memoria dei miei nonni è sicuramente importantissima in realtà io sono anche avvocata civilista e quindi diciamo che per me non so forse anche la scelta del mio lavoro quindi difendere i diritti degli altri il fatto che sono un attivista cioè cerco meno di essere un attivista per i diritti delle donne attiva faccio parte del coordinamento per opportunità della Will e anche della rete più di 194 voci di cui parlava all'inizio Fulvio che anzi ricordo e sarebbe bello che tutti coloro che ci stanno ascoltando andassero a curiosare sulla pagina facebook che si chiama più di 194 voci proprio diciamo un po' richiamo ovviamente la legge 194 la rete nasce da di Maria Duna 36 associazioni anzi scusate adesso sono 39 o 40 ho perso il conto associazioni diverse e quindi io l'antifascismo diciamo per me è proprio incendibile rispetto a tutta la mia vita secondo me antifascismo femminismo partecipazione attiva difesa dei diritti autodeterminazione sono proprio i miei valori fondanti e sui quali ho fatto perno anche per tutta per tutta la mia vita io faccio anche volontariato insomma per me è proprio importante la vita di relazione la vita appunto il più possibile inclusiva e di rete quindi credo che questo sono diciamo che questo ci abbia permesso anche queste esperienze questi valori che ci sono stati trasmessi proprio di ci abbiano spinto ecco verso una partecipazione nella società cioè io credo che questo fosse l'obiettivo dei partigiani cioè il vivere attivamente nella società e combattere perché i valori fossero diciamo quelli che ritenevano giusti fossero portati avanti la democrazia la libertà l'autodeterminazione e quindi io ecco questo mi sento di cercare nel mio piccolo di continuare a portarlo avanti e quindi ecco sono grazie per questa domanda perché mi sono fatto molto piacere poterlo esprimere grazie ma io penso che siamo arrivati al punto che noi sappiamo delle cose abbiamo avuto testimonianze di quello che è successo per me è importante che non rimanere fermi e non tenere le cose per sé è importante trasmettere il fatto che la storia fa lo scherzetto di rincorrersi e quindi si rivedono certi personaggi si rivedono certe ideologie persone che inneggiano ancora per esempio al fascismo questo penso sia una cosa molto grave senza sapere magari nemmeno cosa è stato il fascismo questo è ancora un errore ancora più grande tutte cose molto molto pericolose abbiamo vissuto nelle nostre famiglie questa grave ferita e secondo me il nostro impegno è quello di di far sì che le nostre disponianze possano non far ripetere quello che è successo anche nelle piccole cose io per esempio lavoro nell'ambito della scuola e purtroppo quello che succede anche in una fascia di età molto molto bassa è quella del bullismo per esempio che poi si è anche evoluta nel cyberbullismo quindi abbiamo ancora livelli ancora più alti di questa grave piaga bullismo che fa rima con fascismo e secondo me non è un caso insomma questi atteggiamenti di questa cosa quello che io posso fare nel mio piccolo è quello di cercare di di evitare che certi fatti accadono anche nel piccolo in quanto nelle nostre vite possiamo vedere che c'è la pericolosità che delle cose si ripropongano a livello politico purtroppo vedendo delle delle fazioni che seguono quelle ideologie ma anche appunto nella quotidianità penso sia importante poter poter esprimere il proprio il proprio pensiero contro questo queste queste ideologie grazie mille condividiamo totalmente il discorso di Nonardo e queste serate erano anche un po' pensate per questo per trasmettere la memoria ma non con uno sguardo solo rivolto al passato ma anche con uno con uno sguardo rivolto al futuro perché queste cose sono accadute non è detto che non si ripeteranno però sta a noi far sì che non si ripetano e detto questo se volete ancora aggiungere qualcosa raccontare ancora qualcosa qualche aneddoto siete liberi di farlo vai Francesca ma io volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevate e che diceva Leonardo che non solo secondo me ma secondo me il bullismo il la misoginia hanno tutte la stessa la stessa matrice sono tutte hanno tutte una connotazione diciamo di una mentalità fascista e quindi secondo me tutto questo deve essere combattuto proprio per cercare di non ripetere quella storia lì e non so che non si ripeterà in quei termini lì ma bisogna stare secondo me molto molto attenti sempre sempre attenti anche a quelli diritti che secondo me sono acquisiti noi abbiamo dei troviamo di avere pensiamo di avere dei diritti che sono sacri ma non c'è niente di sacro bisogna sempre sempre stare attenti a a quello che ci viene tolto o a quello che ci viene ci viene spostato senza essere paranoici nel senso ma secondo me bisogna tenere la guardia sempre molto alta perché il pericolo è dietro l'angolo e quindi per me è proprio importante che ci sia attivismo se è possibile sempre più attivismo anche se la nostra società è sempre più frammentata ed è sempre più difficile che sia così però io credo molto nella partecipazione secondo me la partecipazione di presenza è la cosa fondamentale e bisogna sempre stare attenti attenti soprattutto io adesso Giordi è sicuramente una felicissima insomma è bellissimo averlo qua e spero che il fatto di essere con noi insomma coinvolga anche tanti altri ragazzi della sua età in questa situazione perché noi adesso siamo adulti io ho comunque 38 anni quest'anno e quindi non sono più una ragazzina però adesso noi combattiamo ma poi tocca a loro qua bisogna essere svegli e far passarsi le cose velocemente secondo me questo volevo dire stiamo attenti stiamo attenti ai nostri diritti quelli che ci sono quelli che possiamo avere in più la situazione è sempre migliorabile ma è anche sempre peggiorabile e quindi bisogna stare attenti a difenderci anche anche qui sottoscriviamo completamente le parole le parole di Francesca noi come sezione ampi comunque di una sezione periferica non una grande sezione però cerchiamo di fare questo con i nostri eventi con i nostri incontri sperando di poterlo tornare ovviamente presto a fare in presenza detto questo io chiuderei chiudere l'incontro innanzitutto ovviamente ringraziando tutte le persone che ci hanno seguito un particolare grazie va alle tante persone che ci salutano in quanto appartenenti a varie sezioni a varie sezioni dell'AMPI e ovviamente ci fa molto molto piacere che ci seguono in così tanti detto questo vi ricordo che questo video una volta terminata la diretta sarà disponibile sulla nostra pagina facebook e per chi non avesse facebook verrà anche caricato stasera o domani sul nostro canale youtube e quindi ovviamente anche chi non ha facebook se conoscete persone che non hanno facebook potrete potrete inoltrarvelo io ringrazio tantissimo leonardo e francesca perché ci avete fatto vivere davvero una serata emozionante ringrazio anche giordi per il contributo che ci ha dato e poi ovviamente anche lui sarà poi ci parlerà della sua famiglia perché anche lui ha una storia familiare alle spalle è davvero importante detto ciò vi ricordo solo gli ultimi gli prossimi appuntamenti come aveva già fatto Fulvio all'inizio stiamo intraprendendo una serie di incontri invece di carattere più storico e mercoledì ci sarà il secondo di questi e parleremo di fascismo perché come hanno detto sia leonardo che francesca purtroppo il fascismo non è finito nel 45 con con la con la sconfitta bellica ma è continuato e quindi avremo ospite un caro amico della nostra sezione che ormai da tanti anni ci ci viene viene le nostre eventi e ci aiuta a capire cos'è il fascismo oggi si tratta di Davide Conti storico e anche vicepresidente dell'Ampi provinciale di Roma che ci parlerà del suo libro l'anima nera della Repubblica la storia del movimento sociale italiano il 24 poi quindi sabato avremo questo incontro che sarà anche qui molto toccante ossia l'intervista con Giulio Giordano insieme alla sezione Ampi di Torre Pellice e poi domenica sera ci sarà Giordi ma ci saranno anche tanti altri ospiti che invece saranno i nipoti dei partigiani in tutto questo poi vi invitiamo anche il 25 aprile a venire Grugliasco in presenza ovviamente con tutti i dispositivi di protezione necessari per cercare di passare comunque anche il 25 aprile se non come nell'era pre-covid almeno di avvicinarci un po' a quello che era il 25 aprile nei prossimi giorni pubblicheremo sia sulla nostra pagina facebook Ampi Grugliasco che sul nostro sito www.ampigrugliasco.it tutte le informazioni riguardanti luogo e orario detto questo io ho finito ringrazio ancora Leonardo Francesco e vi do appuntamento per mercoledì grazie a tutti e buona serata